Ammaraggio d'emergenza ieri pomeriggio per un aliante decollato da calcinate del pesce in provincia di Varese. Il velivolo si è adagiato sulle acque del primo bacino del lago di Como, a pochi metri dall'hangar dell'aeroclub. Il pilota è stato tratto in salvo e non ha riportato alcuna ferita. Anche l'aliante è stato recuperato e trascinato a riva. Il pilota ha iniziato a perdere quota, di cui la decisione di effettuare l'ammaraggio d'emergenza sul lago, una manovra spettacolare che è stata seguita da comaschi e turisti sulla passeggiata di Villa Olmo. Si è alzato in volo anche l'elisoccorso e da malpensa stava per decollare l'elicottero dei vigili del fuoco, il cui intervento è stato annullato quando si è capito che il pilota stava bene ed era già stato recuperato. In soccorso del pilota, con un gommone, è arrivato Giorgio Porta, gestore del lido di Villa Olmo e presidente dell'aeroclub Como. Dal lido di Villa Olmo ci siamo accorti immediatamente che c'era qualcosa che non andava in questo aliante che era troppo a bassa quota rispetto alla coslina di Brunate. L'aliante ha fatto una manovra proprio di avvicinamento all'aeroporto di Como, quindi con un sottovento regolare, una base, un finale sull'acqua ed è quindi ammarato. Siamo partiti anche grazie al fatto che l'aeroclub di Como ha aderito da anni al progetto L'Ario Sicuro che prevede nel nostro caso una squadra di pronto intervento di tre persone, di tre aerosocorritori sempre presenti al lido di Villa Olmo con un mezzo nautico adeguato. Devo ringraziare anche un diportista di cui non conosco il nome che si è affiancato e ha collaborato in maniera proficua a questa operazione di salvataggio.